buon giorno dal primo giorno a roma cioè in realtà siamo arrivati ieri però ieri non abbiamo fatto niente oggi andremo a visitare tutte le cose importanti e adesso siamo al forro romano abbiamo appena attraversato il circo massimo abbiamo appena visto il circo massimo e poi andremo al colosseo ovviamente secondo giorno abbiamo visitato il colosseo dall'interno e adesso non sapremo cosa fare però troveremo molto presto in un'altra vita sognavo di essere presentabile 7500 gradi all'ombra e in teoria stiamo andando a vedere la bocca della verità sempre se ci arriviamo ragazzi il segreto che non vi ho svelato è che in realtà siamo venuti qua solo per riportare mio fratello a casa infatti lì c'era l'indicazione zoo quindi ora andremo a riportarlo a casa no a parte gli scherzi c'era una coda incredibile alla bocca della verità e quindi non so dove stiamo andando in realtà no a parte gli scherzi c'erzi 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 no a parte gli scherzi c'erzi